Un'eventuale aggiunta teologica del concetto di spirito nella Bibbia è un'ipotesi che non ha nessuna credibilità. Un'ipotesi che non ha nessuna credibilità. Un'ipotesi che non ha nessuna credibilità. Un'ebraista non è un ebreo, non è un teologo, ma è una persona non religiosa che dà una risposta accademica basata unicamente sul testo. Quindi un'eventuale aggiunta teologica del concetto di spirito nella Bibbia è un'ipotesi che non ha nessuna credibilità. 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 Di questo ruach non è mai dato una descrizione fisica. Non è mai detto che questo ruach era rettangolare, era ovale, era a forma di disco. Un'ipotesi che non ha nessuna credibilità. Un'ipotesi che non ha nessuna credibilità. Un'ipotesi che non ha nessuna credibilità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.